ben tornati su minecraft facciamo delle battaglie ne creiamo una partita pubblica ragazzi questa non sarà online in senso non abbiamo per torre che ci possono aiutare in senso non abbiamo fame non abbiamo super mandarino non abbiamo non abbiamo mark 07 player non abbiamo inter non abbiamo nessuno quindi bisogna solo aspettare che entri qualcuno semmai vi toglierò questo video e il suo pezzo che non aiuta qualcuno vabbè ragazzi non entra nessuno quindi bisogna uscire e quindi bisogna partecipare ad un'altra a un paio vediamo partecipa a tutto aspettiamo allora aspettiamo 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 eccoci ok oh siamo già qua quindi aiuto non 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 allora ti 540 dovevo ok baia peccato che questo qua sono le tre principali peccato che non è facciamo il game con questo qua eh non lo so perché ha la spara non 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 corri corri grazie grazie oh mio dio questo è un tutti contro tutti non dobbiamo stare più al centro corri grazie corri 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 grazie io 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 non è che chiede l'ho? non non è che chiede no 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 vabbè questi sono troppi e vabbè e vengono solo due che tra l'altro stanno per combattere sta morendo di fame dai 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 io ti fò per lui tanto muore eh lo sapevo ok questo qua ha vinto e il nostro obiettivo è ucciderlo quindi crologio pronto allora io prendo le palle di neve visto che l'altra volta ci rompevano tutti con le palle di neve ora li voglio trollare un po' io li voglio trollare andiamo a trollarli prendiamo le palle di neve c'è un modo per prenderle dovrebbe essere affatti no dai lo so come fare rompiamo le palle di neve cioè rompiamo con le palle di neve ok l'obiettivo è uccidere sto qua ok 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 io so due ceste che mi possono dare intanto abbiamo visto le palle in diamante bene 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 quindi vado a prendere subito quella cesta con la con la palle in diamante ok sono riuscita a prendere la palle in diamante quello è morto è morto sto qui quindi rimaniamo soltanto in due bene 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 allora 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 andiamo a prendere qualcosa al centro ho sentito aprire una cesta questo non è un buon segno no forse a sopra ok probabilmente a sopra ok andiamo a sopra ok qua c'è una cesta ti enti ti enti ok ma qui è rimasto quello di no devo uccidere quello di cialo mi dispiace ciao yeee facciamo una tl qui mettiamoci top yeee abbiamo vinto andiamo a prendere l'elytra e prendiamoci anche l'armatura di diamante ok quindi 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 vogliamo eeeh mi son buttato a vuolo ciao per a prendere l'epale di neve ok quindi eeeh non è il cover l'ultimo quindi eeeh 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 ragazze siamo troppo forti incrociano vediamo sopra ci vediamo sto qui ok abbiamo vinto centomila volte adesso andiamo a prendere l'elizia no non abbiamo avuto il tempo per 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 chi mi ha dato questo non abbiamo avuto tempo per lanciare le palle di neve caverna bene anche questa sono bravo io vado allora prendo la cesta e devo andare su questo vola ancora no non devo andare qua allora non c'è da questo qua perché voglio avere la subito adesso no dove sei e godi adesso andiamo a prendere ok sono morto ma intanto non morivo lo stesso hello non mi prenderà mai quindi andiamo alla cesta al centro in aria quindi è laggiù che poi ce ne sono due no non ce ne sono due pensavo che ce ne fossero due allora andiamo a prendere la cesta proviamo io non sono bravo qua con parkour quindi non ci vado vado l'altra parte perché perché sono più bravo di lì invece che lì perché non ce la faccio quindi prendiamo lì perché lì è più bello il parkour più fatto bene insomma un'altra palla in diamante siamo riusciti male potevo morire non puoi gustare la gente così allora allora guarda qui allora guarda qua lo bagato un po un dato l'arco l'arco potenziato non ho le frecce vediamo se sto qui ce l'avevano vado a cercare le frecce oh frecce grazie 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 e stai consegnando le frecce lo sai? ok ora sono full diamond a parte i colmi no 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 come fa? come fa? come fa? come ha fatto? è impossibile allora io lo disturbo con le palle di neve è impossibile raga è impossibile perché io avevo la palla in diamante e lui aveva l'ascia in legno è praticamente impossibile uno contro la palla in diamante uccidere una con l'ascia che è qualcosa in legno andiamo a disturbarlo con le paviglie andiamo veloce abbiamo 35 secondi non uccidiano ok 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 uscire uscire questo ok ne abbiamo disturbati un po' però ne abbiamo disturbati ok la baia, la baia, so dove la palagnamante è dentro il teschio andiamo a uccidere andiamo a prenderla corri 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 dove la nave, dove la nave? eccola corri 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 no 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 quella è la mia non puoi prenderla allora andiamo 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 corri ok caio 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 no no non mi puō prendere la pala Haupt teammate L'ha presa? Sì l'ha presa e se ne è andato Si è buttato Sono senza niente La ragione Ecco Ecco Leccezò io le sargo Anche se sono abbastanza sparo Un arco con frecce E abbiamo già tanti di arco Quindi le buttiamo Frecce altre Un arco potenziato Cos'è? Il pugno Comunque ci accontendiamo Questo qua Dovrebbe essere morto A meno che non sia l'ultimo sopravvissuto Questa la vinciamo La vinciamo La vinciamo Questa la dobbiamo vincere Perché se non la vinciamo Vediamo se quello lì No è quello lì con la palla in diamante Ora mi sa che lascia inferno Dobbiamo frecciarlo Andiamo qua No non ci riusciamo Quindi andiamo qua Raga oggi doppio Doppio episodio Perché 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 Ieri non ho fatto il video Dove è andato? Mi sono spento Corri 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 Mi sta inseguendo Mi sta inseguendo Corri 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 Mi sta prendendo Mi sta prendendo Corri 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 Oh oh Non mi hai Sì Mi seguì Allora Oh mio Dio Ho preso tutto questo Oh mio Dio Cosa mi ha tirato? No Laga 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 Non mi via Non mi via Corri 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 Ok 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 Non mi ha fatto più danni Quindi Dovrei vincere Perché lui credo che abbia fatto poche kill A meno che lui non abbia fatto tantissime kill Quindi Un, due, tre No, 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 no No, ho vinto Vabbè Vediamo Che è questo? Criminal Allora Andiamo Andiamo A prendere subito Le palle di neve Uccidiamo sto qui Dobbiamo uccidere In senso Dobbiamo picchiare sto qui Con le palle di neve Corri 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 Uccidiamolo Oh, vola No, non è Non vola Andiamo Dov'è quello lì? Dov'è, dov'è, dov'è Dov'è, dov'è Si è buttato nella cosa No Dobbiamo ucciderlo questo Questo è il primo che dovremmo uccidere A meno che non lo uccidano gli altri Perché io non ne ho voglia di combattere con il trusso qui Vai Corri, corri, corri Vieni qua No, la palla La palla Palla mia Morto Dove l'è la palla No No Si Si La palla No, cosa ho fatto Comunque c'è un'altra palla So dove trovarla Spero che non sia No Cosa? Ma non sono sfuggito da nessuna parte Mi sono buttato apposta Per sbaglio Mmm Che bugiardi Allora Comunque l'altra L'altro punto dove prende la testa è qua Che c'è la palla in diamante di sicuro Quindi Facciamo l'ultima partita E concludo l'episodio Anche perché è durato credo 30 minuti più di 30 minuti Quindi dai ne mancano soltanto due Uno è in basso Che è questo qua che volevo uccidere per primo Ma è l'altra E buttati nella lava e basta Oh ma vuole Ah no niente Allora Occhio! È morto Ma non è morto Ah gli ha dato la pozione di altezza Che vincerà Che vincerà Secondo me io ti fò per quello nero Uccidilo 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 Fatti coraggio Uccidilo 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 Oh Invece ha vinto questo Ok facciamo l'ultima partita e concludo io ho preso di pericolosi io ho prendere le palle di neve palle di neve non prendiamo le prendiamo il capitale il ok allora dovrebbe mandare allora dovrebbe non di qui ma no questa è diversa questa è più grande perché è più grande no perché laggano le frecce allora riprendile e che cazzo è questa? no perché nella seconda nella più grande non so dove la pala in diamante perché troppo difficile da prendere nooo vabbè ragazzi penso credo di concludere questo episodio di minecraft battle minigame qui e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche di questo canale e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao